Renzo, ritto, avanti al... E questo è il testo? E pensa che il problema dopo era co-cuozzo Perché era sottolineato, attenzione Oggi 5 novembre, il sole sorge alle 6.50 Perché m'hanno presa? Perché sono... Scusa Sono mia, perché sono mia Ok, vado No, stette, attento No, hai ragione, devi anche deglutire Non è, non è Potrei scrivere i più piccini su periodi in mezzo Ma devo baciare la Lara o il microfono? La grida canta chiaro E se la cosa si deve decidere Ok, scusate Non c'è neanche c***o Non c'è neanche c***o Non è super c***o Non c***o, non 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 c***o E Don Rodrigo A guisa di chi è colto Chi è Don Rodrigo? Ah, scusate La figura è Basta Basta Però questo è simpatia per mangiare Se mi facevano dei gesti chiari davanti Mi facevano tutti dei gesti E non capivano se era pieno di essere Andava avanti Infatti non è la prima Quindi il gesto ci sta Ok Sì, ok Sì, ok Sti c***o Perpetua Motere il linguaggio Questa è l'articolare Che è serio ragazzi Sti 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 Oh sì, va bene, scusa sono un po più umile io muoio se qualcuno entra qui io muoio io muoio io muoio e vabbè ciao il backstage è bellissimo e vabbè buona io muoio